Davanti a voi Artur Dubiel Benvenuti in un nuovo progetto multilingue in cui rifletteremo sul futuro Questa futura non sta già accadendo Ci saranno davvero più domande che risposte Vorrei ispirare un pensiero indipendente Mi inspirerò dalle conversazioni con i miei ospiti del podcast che conduco Nei nostri incontri mi incontrerò con voi autonomamente ma anche occasionalmente con gli ospiti e mi supporterà il mio gemello virtuale ovvero il mio avatar Nei nostri dibattiti affronteremo varie questioni Futuro, sicurezza e sviluppo Intelligenza artificiale Apprendimento automatico Metaverso Guerra e pace Previsione e modellazione Relazione internazionale Sicurezza nazionale Come si scopre? I problemi sono molto ampi Legati allo sviluppo della civiltà Indicheremo alcune opportunità Indicheremo alcuni rischi Vi invito fin da ora a seguire il canale E a partecipare anche sui social media Commentate e rimanimo in contatto E a partecipare anche sui social media